ciao a tutti e ciao a tutte vi ho appena lasciato con un altro video chiacchiera e nel frattempo vi facevo vedere delle cose e visto che ci sono vi faccio vedere anche questa questa è un acquisto che avevo fatto su wish e che è stata una fregatura in male non so se ve l'ave fatta vedere ma ce l'ho qui sotto mano scusate i capelli sul microfono guardate un po sembrerebbe anche carina a vederla così ma questa è la tracollina guardate com'è rifinita male guardate che schifo plastica plasticaccia allucinante guarda mi è arrivata così sembrava più grande di quello che è in realtà perché è una borsettina in cui nel mio caso c'entra solo il portafoglio eccolo qua me la volevo far vedere perché sono rimasta delusissima mentre sempre in fatto di borse guardate che meraviglia questa l'ho presa per l'inverno l'ho trovata da chiabì è costata 20 euro eccola qui solo 20 euro è in tessuto piedi pool veramente tessuto e non è stampato è un vero e proprio tessuto piedi pool guardate com'è rifinita bene i manici non mi piacciono moltissimo però qui si apre in questo modo guardate che bella ma questo è un video o un video chiacchiere qui c'è la sua tracolla della faccio vedere eccola qua la tracolla e all'interno se riusciamo a farvela vedere è così c'è una una tasca dentro che divide in due la borsa è molto bella il tessuto è molto morbido e per 20 euro per una cosa un po così carina calcolate che adesso vi spiego perché poi ho fatto questo video capirete che cosa sto dicendo adesso ho intenzione di acquistare un tubino più o meno di che richiama questa fantasia immaginate perché ho delle scarpe anche che richiamano questa fantasia tra l'altro un paio di scarpe che hanno la stessa fantasia per i pool della borsa e non so più che fine ha fatto sì la borsa me la ricordo le scarpe non so più dove le ho messe immaginate un tubino o tutto grigio o con questa stampa questa borsa molto carina togliamo l'etichetta magari eccola qua ed è anche grande bella grande bella capiente con un bel decollet che sta benissimo e voi direte ma come ti lamenti del tuo peso e dici di voler prendere un tubino a parte il fatto che anche le persone grosse possono indossare i tubini perché io ne ho uno nero che tutte noi donne dovremmo avere nell'armadio almeno un tubino nero e non vedo qual è il problema io sto massacrando il microfono però va bene sotto mi è rimasto un pennarellino comunque questo video è per raccontarvi il mio percorso verso l'intervento di chirurgia bariatrica e nel frattempo vi ho fatto vedere un po di cosine che ho acquistato ultimamente ma ho una marea di cose che ho acquistato anche qui sicuramente farò un hall allora a marzo ho preso molto peso avevo preso molto peso nell'ultimo tempo negli ultimi tempi e non ne potevo più il problema è che con il passare dell'età e del tempo è sempre più difficile dimagrire perché c'è una questione ormonale quindi cambiamenti ormonali eccetera e non non potendone più la dieta alimentare comunque non era efficace in modo sufficiente attraverso io lavoro in una struttura ospedaliera attraverso una un medico un chirurgo una donna veramente molto molto carina che è stata molto carina nei confronti ho preso i contatti con il centro di eccellenza europea per la chirurgia bariatrica dell'ospedale icot a latina il centro è gestito dal primario il professor silecchia è un centro riconosciuto e certificato quindi è un centro di eccellenza a livello europeo quindi sono dei professionisti l'equip del professor silecchia è una equip di tutto rispetto si compone di nutrizionisti di una psicologa specializzata in disturbi alimentari e di un'equip chirurgica io ho avuto contatti soprattutto dico il nome perché credo che sia una persona che vale la pena conoscere perché è un professionista eccellente io sono stata visitata nel durante la prima visita e successivamente ho visto il dottor jossa un chirurgo giovane e intraprendente molto deciso molto molto competente e molto paziente che ha saputo spiegarmi e portarmi verso il l'intervento di chirurgia bariatrica in modo professionale ed eccellente quindi io ero già stata nel centro ma ero stata bocciata perché non ritenuta sufficientemente grassa obesa per poter affrontare l'intervento questa volta invece le caratteristiche c'erano tutte l'età il peso il problema i problemi connessi alla al peso eccetera quindi sono stata accettata dall'equip del professor silecchia come candidata all'intervento di chirurgia bariatrica mi si prospettavano due tipi di intervento ovvero il mini bypass gastrico o la sleeve io se ben ricordate ho già posizionato il bib cioè messo il palloncino nello stomaco che è stato tolto dopo sei mesi i problemi che comporta il palloncino non in tutti ma in parecchi pazienti sono insorgere di gastrite cronica presente mi è venuta ed ernia iatale con reflusso presente anche quello purtroppo mi angoscia la vita tanto che da qualche anno io ogni mattina prendo una pasticca di gastro protettore 40 mg di esome prazzolo perché altrimenti non vivrei non vivrei nel senso che comunque i dolori provocati dal reflusso e dalla gastrite sono talmente forti che non riuscirei comunque a sopportarli quindi il bib purtroppo mi ha lasciato questi strascichi ho iniziato il percorso vi dico subito che non è semplice come sembra è facile dire a mi faccio la sleeve no non è così il percorso è lungo il percorso è duro ma soprattutto perché è un percorso all'interno di te stessa soprattutto gli incontri con la psicologa io di routine ne sono 44 incontri io ne ho fatti solo tre perché ovviamente la psicologa ha ritenuto che non fosse necessario proseguire sebbene io abbia incontrato lì nella sala d'attesa persone che erano al quinto sesto settimo incontro con la psicologa e anche con la nutrizionista sono bastati tre incontri perché nel primo incontro hanno un po studiato la mia alimentazione le mie abitudini mi hanno dato da compilare il diario alimentare la seconda volta mi hanno dato la dieta la dieta che ho seguito attentamente scrupolosamente anche perché non è una dieta difficile da condurre si deve rinunciare purtroppo ai dolci ma tutte le diete è così e poi il terzo incontro finale in cui hanno appurato che c'è stato un notevole una notevole perdita di peso io conosco persone che verso l'intervento bariatrico sono aumentate io sono dimagrita io dal 22 giugno ad oggi che sono i primi di settembre ho perso 10 kg ma non sono stati propedeutici all'intervento perché io non avevo bisogno di perdere peso prima di poter affrontare l'intervento perché ovviamente non ho problemi respiratori non ho complicanze cardiache eccetera però comunque ti danno questa dieta forse anche per abituarti poi al post intervento l'intervento ancora non so quando avverrà io domani andrò a fare la preospedalizzazione in ospedale devo dire che una cosa che ho visto comparandola con esperienze di colleghe che si sono sottoposte anch'esse alla sleeve è che nel caso di latina viene veramente seguita viene comunque sondata studiata quindi come si dice a roma rivoltata come un pedalino ci sono persone che si sono sottoposte alla sleeve con con un altro chirurgo di cui non faccio il nome in un'altra città fuori lazio che hanno fatto una visita psicologica via skype cosa discutibile e io qui parlo anche professionalmente cioè io da psicologa non posso stabilire se tu sei idonea o all'intervento con un solo video incontro attraverso skype con con non hanno fatto gastroscopie io vorrei capire tu operi una persona di sleeve e non sai quello che trovi che quello che potresti trovare in questa persona a me sono stati fatti esami amato chimici visita pneumologica con spirometria gastroscopia analisi di tutti i tipi mi sono stati somministrati test e test psicologici non vi dico quanti ho compilato di aria alimentari insomma tu arrivi all'intervento che il chirurgo quindi l'equip chirurgica l'equip psicologica e l'equip dei nutrizionisti ti conoscono a mena dito dentro e fuori tu devi arrivare all'intervento bariatrico sta conoscendo il paziente con questo non voglio criticare nessuno però questo già è stato per me un un segnale di potermi rivolgere ad occhi chiusi al centro di chirurgia bariatrica d'eccellenza europeo dell'ICOT di latina questo è un video pre intervento non so quando è fissato l'intervento vi farò sapere ovviamente quindi adesso vi spiegate perché io non mi sono mai fatta vedere da qui in giù perché adesso vi faccio vedere le mie spalle ma si può vedere che comunque non sono magrissima però va bene e quindi questo è quanto vi terrò aggiornati se vi fa piacere vi racconto tutto l'iter magari domani farò qualche piccolo video lo monterò durante la pre ospedalizzazione io con questo vi ho tenuti già fin troppo impegnati un bacio a tutti al prossimo video voglio registrare adesso un video se mi aspettate sono qui ciao grazie a tutti grazie a tutti